dammi un qualche notte do re vero? camilla bravissimo grazie veronica ma è sempre con la mano di basso che scende questa è la mano di basso la cosa più bella ed eccitante della nostra settimana musicale qui a Cortemiglia è proprio la partecipazione dei suoi piccoli abitanti sì perché noi ospitiamo i bimbi di Cortemiglia dai 2 ai 4 anni e partecipano attivamente al nostro laboratorio e quello che didatticamente ha un valore unico per me è proprio il fatto che i miei allievi anche i più piccoli diventano maestri li guidano verso il pianoforte gli dipingono le unghiette gli insegnano le notte e gli insegnano a leggere le prime canzoncine in questo momento che lo metti nel foglio Giordana e Arancione ecco la messa qua Giordana D'Ami Chiara 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 Eccolo qua D'Ami Chiara Molto bene Quest'anno parteciperanno al laboratorio teatrale recitando il cerchio delle quinte assieme ai miei bimbi e occupo il primo grado della scala e diventa triste e piange bravissima cosa del sovrano io sono il cavaliere quattro tu occupi il quattro la sopravdivina oh così devono essere dopo io sono la sentita vado a combattere e il cavaliere dov'è l'anno? e il cavaliere ma adesso lasciamo il polsente voi non si potrebbe essere per le staglie vedi d'acqua meglio e me lo so e me lo so e farò la presentazione si alzi la terra si alzi si alzi il quattro e lo so il quattro il quattro la scala è maggiore la scala è di scena ogni bimbo sceglierà un grado della scala il primo grado che sarà il sovrano e si calerà nei panni di un sovrano secondo grado è l'alfiere che sta sempre accanto al sovrano terzo grado è la regina quarto grado il cavaliere quinto e il principe orgoglioso un giorno di avere un regno tutto suo gli ultimi due gradi il sesto e il settimo saranno due giulari che divertiranno tutti quanti ogni bimbo sceglierà il suo personaggio si metterà il costume del personaggio stesso e reciterà il ruolo di quel grado annunciando la regola musicale grazie a tutti